A facoltà per dieci minuti. Grazie Presidente. Io credo che dobbiamo, per rispetto nei confronti di quest'Aula, ma ancora di più per rispetto nei confronti degli italiani, mettere un po' di ordine sul vero motivo per il quale ci troviamo qui oggi. Si è riunita la Camera ieri in merito alla fiducia al Governo Conte e Bis. Dobbiamo raccontare la verità, il motivo quale è stato, il capriccio di Italia Viva può darsi, l'incapacità e la inconcludenza di questo Governo può darsi, ma andando a fondo il vero motivo che ha creato questa instabilità sta nel difetto di fabbrica di questo Governo, sta nel peccato originale che ha fatto nascere questo Governo, perché Presidente Conte questo Governo non è mai nato su una visione, perché non avete mai avuto una visione dell'Italia. Questo Governo è nato nel settembre del 2019 sulla paura e contro qualcuno, sulla paura del voto, perché eravate tremendamente impauriti di andare alle elezioni nel mese di settembre del 2019, e contro Matteo Salvini, che avrebbe stravinto quelle elezioni. Per di più, questo Governo, e ricordiamolo, nasce anche sul tradimento, perché voi avete tradito la parola data, illo tempore, al Presidente Mattarella, il quale decise responsabilmente, secondo il suo ruolo, di riaffidarle l'incarico sulla base di due requisiti, l'aritmetica che c'era e la conclusione, la visione strategica di questa compagine. L'aritmetica è venuta meno, la visione strategica non c'è mai stata e senza che nessuno si offenda, il motivo vero per essere più chiaro verso gli italiani di questa crisi è perché, lo ripeto, senza che nessuno si offenda, questo Governo è una vera e propria Armata Brancaleone. Perché è un'Armata Brancaleone? Perché vedo che Di Maio è seduto in quei banchi insieme a quelli che rappresentano il cosiddetto partito di Bibiano. Ricordate che diceva mai con quelli del partito di Bibiano e vedo il Partito Democratico che siede con il Movimento 5 Stelle, quando Zingaretti, tutto sofferente, tutto sudato, diceva mai con i 5 Stelle o li ho battuti, non andrà mai con Costoro. E per finire, un'Armata Brancaleone perché abbiamo da un lato i comunisti o ex comunisti insieme al professor Monti. Presidente Conte, la visione non c'è mai stata e lei, mi dispiace dirglielo, parla sempre con molta leggerezza e con molta superficialità, ma gli italiani ricordano bene. Lei ha parlato con superficialità e con leggerezza nel luglio del 2019, quando era ancora al governo con la Lega e pronunciò queste frasi, che io possa andare in Parlamento a cercare una maggioranza alternativa e assolutamente fantasiosa. Le oggi ha ridotto questo Parlamento ad un vero e proprio mercato delle vacche. Le è stato superficiale, Presidente Conte, è leggero, quando da ipersovranista, quando diceva la sovranità appartiene al popolo, non perché lo diciamo noi, ma perché lo dice l'articolo 1 della nostra Costituzione, è diventato da ieri iper-europeista. E lei ha parlato con leggerezza, anche durante questa pandemia, quando ha chiesto agli italiani sacrifici, quando ha chiesto agli italiani chiusure, promettendo che magari il Natale sarebbe stato vissuto in armonia normalmente e che fa oggi ancora minaccia sacrifici e minaccia chiusure. Su questo, Presidente Conte, sulla coerenza, quantomeno il suo padre putativo politico, l'oracolo dei Cinque Stelle, Beppe Grillo, è stato più lineare. È nato comico, continua ad essere un comico e probabilmente morirà comico. E oggi assistiamo allo stesso copione. Siete qui. Abbiamo visto degli interventi che invocavano un sentimento paternalistico. Vogliamoci bene, cerchiamo di stare insieme, cerchiamo di andare a limare, a calibrare i sentimenti, come se fosse un rapporto amoroso di una coppietta in crisi, ma non è così. Oggi voi siete qui con lo stesso copione del settembre 2019. Cercate di rimettere insieme dei cocci, non perché c'è un nuovo progetto, non perché c'è una svolta, ma semplicemente perché ancora oggi, come allora, avete paura del voto e avete la volontà di andare contro il centrodestra e contro Matteo Salvini. Lei, Presidente Conte, in questi giorni ha detto che se si va al voto andrò casa per casa, farò il porta a porta. Non so se è un auspicio da parte sua o se è una minaccia. Se è un auspicio lo raccogliamo, se è una minaccia non ci spaventa. Però dipende tutto da lei, decide che cosa vuole fare, ma andare sul territorio, andare casa per casa, andare porta per porta è la nostra vita quotidiana, perché noi stiamo sul territorio e se vuole le diciamo città, quartiere, via e anche numero civico. Noi stiamo lì, non stiamo nel palazzo. E poi per andare sulla rivoluzione dei 5 Stelle, che cosa ha partorito questa rivoluzione in questi mesi? Non dico nulla su Matteo Renzi, che è il solito Gian Burrasca, oramai lo conosciamo, per cui vedremo che cosa produrrà la sua intemperanza. Ma la rivoluzione dei 5 Stelle che cosa ha prodotto? Ha prodotto che è stato riscoperto Clemente Mastella. È stato invocato in questi giorni come un taumaturgo che avrebbe sanato questa malata democrazia. La vostra rivoluzione addirittura ha elevato al rango di statisti, razzi e scilipoti. Questo è quello che avete provocato. Evidentemente la pedagogia didattica sulla quale vi ha portato il professor Monti ha funzionato e ha prodotto i propri risultati. Però parliamo dell'Italia e degli italiani. La sua relazione, Presidente Conte, conteneva tutto e niente. Non aveva prospettive, non aveva anima. Però ne oggi vediamo un'Italia, e non lo diciamo per essere pessimisti, che ha il meno 10% del PIL. Ha il record di morti nel 2020 di 720.000 morti. Il minimo storico di nascite sotto i 400.000. Investimenti fermi. 390.000 aziende che chiudono. 200.000 studi professionali che chiudono. E noi adesso assistiamo a una sua comunicazione dove non si parla di vaccini, dove non si parla di riaperture, di bar, di ristoranti, di palestre, di impianti sportivi. E, caro Professor Monte, il Governo deve favorire le riaperture, non le chiusure delle attività che con tanti sacrifici gli italiani hanno messo su. Non si parla di ricostruzione, ma si parla in questa sede di legge elettorale proporzionale. E su Mezzogiorno, io non ho il piacere di rivedere qui, tra i banchi del Governo, il Ministro del Mezzogiorno. Badate bene che non basta avere l'etichetta «Io sono del Sud» per fare politiche a favore del Mezzogiorno. Chi aveva queste etichette in passato ha fatto soltanto danni e voi continuate sulla stessa identica strada. Nel 2019 il Presidente Conte diceva «Vogliamo un Mezzogiorno rigoglioso». Il Ministro per il Mezzogiorno parlava di un Sud che è il cuore alla soluzione della questione Italia e della questione Europa. Bene, oggi voi nel Sud siete non pervenuti. Soltanto belle parole, soltanto promesse di mancette. Ma il Sud e tutta l'Italia hanno bisogno di investimenti per lo sviluppo. Il Sud ha bisogno che si liberino le iniziative private. C'è bisogno che riprenda a correre e tutto questo non può accadere con un Governo che si sostiene con i responsabili, con i costruttori, con i volenterosi. Siamo onesti anche su questo. Chiamiamoli per il nome giusto. Con i Volta Gabbana. Tutto questo si crea soltanto se c'è una visione, un Governo forte nelle idee e solido nei numeri. Concludo, Presidente. Vi resta una cosa da fare per conservare una dignità politica, per avere rispetto nei confronti dell'Italia. Fatevi da parte. Fatevi da parte. Fatevi da parte. perché siete inadeguati. Politicamente lo siete sempre stati. Dopo il mercato delle vacche al quale ci avete costretto ad assistere, lo siete anche moralmente. L'Italia merita altro e voi non meritate l'Italia. Resta a voi trarre le dovute responsabili conseguenze. Grazie.